Allora, vi ho spesso parlato di un mio amico che gestisce la radio locale, che si chiama Radio Stereo Sant'Agata, una radio sentita in streaming praticamente da tutto il mondo. Lui, negli anni 90, era un DJ che girava locali e discoteche, quindi conosce un po' tutti gli addetti del settore e della zona. Quindi adesso gli possiamo fare qualche domanda e vediamo se confermerà quanto vi avevo anticipato in passato. Quindi, allora, tu sei DJ Rocks? Sì, esatto. E negli anni 90, quindi, hai detto che conoscevi anche Daniele Mondello, tra i tanti artisti che conoscevi. Sì. Lui era già famoso o ancora no? Stava iniziando ad essere famoso e per lo più frequentava e suonava nei maggiori club della costa tirrenica siciliana. Quindi tu sai per certo che lui frequentava degli amici di qua, di Sant'Agata. Sì, sì, sì. Possiamo fare dei nomi o non li vuoi fare? Puoi fare un nome fra tutti, Leo Max, che è molto conosciuto. È un mostro sacro. Se non sbaglio, oggi come oggi è all'estero, a Malta? Sì. Ok. E per caso ti ricordi dei posti, per esempio, in cui lui faceva serata in quell'epoca? In quell'epoca Daniele suonava al Tattaluga. Quindi a Capod'Orlando? Sì, sì. Ah, dove si è fatto il tatuaggio? Una discoteca molto rinomata, dove poi, se possiamo fare una piccola, se possiamo aprire una piccola parentesi, è stata scritta anche la famosa Sapore di Mare. Di Gino Paoli. Di Gino Paoli. E al Cogonat, che tuttora è molto niente. Ah, quindi lui faceva diverse serate qua in zona. E che tu sappia, per esempio, oltre a Capod'Orlando, ha avuto collaborazioni in zona? In zona? Sì. A Taornina ha suonato tantissimo. Beh, certo, lui di Venetico è abbastanza vicino. E riguardo Torre dell'Auro? Torre dell'Auro, in quella che adesso si chiama Siren. Come si chiamava a quell'epoca? A quell'epoca si chiamava Bussolastare. Bussolastare. No, ripeto, nei tempi in cui stiamo parlando, ancora Daniele non la conosceva. Sì, quello è chiaro, certo. A Viviana, quindi, a Viviana ancora non era venuta a stare qui in Sicilia. Sì. No, so che lei da Torino talvolta veniva giù a fare dei live, quindi tu non sai se è mai venuta a Capod'Orlando a quell'epoca. Direi una fesseria, se dicessi di sì. Ok. Daniele poi l'hai più sentito o sono ormai anni che non lo senti più? Purtroppo ormai ci siamo persi. C'è anche, per esempio, i suoi lavori che fa spesso in radio e non vi ha mai mandato nulla a trasmettere? Sì, qualche braccia ce l'ha mandato. Quindi anche di recente? Sì, anche di recente. Ok, va bene. Un ringraziamento al DJ e allo speaker radiofonico di questa importante radio locale per le informazioni che ci ha fornito. Grazie a voi.